Come dice un grande ingegnere statistico del nome Edwards Deming, senza dati siamo solamente dei tizi che hanno un'opinione in tasca. Ed ecco il motivo per cui chi si occupa di commercio elettronico, chi si occupa di marketing digitale, non deve necessariamente farsi guidare solo dai dati che ovviamente il digitale produce, ma deve in qualche modo supportare le proprie idee, supportare il proprio intuito attraverso l'utilizzo dei dati. Ed ecco il motivo per cui nel corso del Master della Scuola di Formazione Ipsoa dedicata all'e-commerce specialist, dedicheremo molto tempo alla web analytics, ai dati che cedono a capire che cosa vende di più il nostro sito, ma anche alle ragioni per le quali abbiamo saputo portare utenti che hanno poi convertito. Quindi guarderemo dei dati legati agli utenti, legati alle attività di marketing, legate alla capacità di ottimizzare le nostre vendite online. Lo faremo in una modalità molto flessibile perché questo Master ha dei momenti in aula, ma anche dei momenti che possono essere fruiti online attraverso l'utilizzo dei webinar che nel corso della nostra giornata, senza togliere troppo tempo il nostro lavoro, però ci possono permettere di innovare la nostra professionalità e dedicarci al meglio a tutte le opportunità che il commercio elettronico riveste oggi.